di anniversario, questi saluti e questi amici carissimi, tu mi hai naturalmente accennato che ci sarà un venimento, un festeggiamento molto importante per le nozze d'oro di amici molto cari, amici in comune direi, perché tu chiaramente le frequenterai anche più spesso perché avrai modo appunto di... Ma infatti lui ogni tanto quando mi viene a trovare, quando vado a fare delle serate, lui ha le sue basi e canta anche lui. Ma sapete di chi stiamo parlando? Tutti gli orchestrali le conoscono. Eh direi di sì, perché loro amano la musica da sempre, poi insomma quante volte i musicisti sono andati anche a mangiare la pizza da lui? Eh sì, il grande lo dico io, il baffo, il baffo e la mira, il 22 dicembre festeggiano le nozze d'oro. Ecco, quindi noi lo anticipiamo oggi, però caro baffo, cara mira, io lo conservo questo invito, questo messaggio, anzi so che voi mi avevate invitato, chissà, però io so già che quella giornata lì sono impegnata con la mia orchestra, comunque lo ripeteremo, perlomeno l'augurio ve lo vorrò fare qui attraverso il programma di Romagna Mia. Quindi tanti auguri anche per quei ragazzi quando si arriva a quel traguardo, io devo veramente dire che ammiro questa gente perché quando un matrimonio comunque è solido e continua, nonostante a volte ci possono essere anche degli intoppi perché un ragazzo vivere insieme credo che non sia mica facile, poi quando ci sono i figli, i nipoti, tu sei diventato nonno? Anche. Di una bella bibina, mulattina, perché mia figlia ha sposato un cubano. Che bello. E allora... Sei diventato nonno? Sono diventato nonno. Che si chiama? Si chiama Christel, anzi approfitto eh. Eh dai. Christel, un saluto dal nonno. Dal nonno sì, come pensa te. Ma dopo parliamo di questa cosa ancora, adesso direi di lasciare la linea alla riuscita. di lasciare una copia di grandi, grandi amici e lo faccio con tutto il mio entusiasmo e tutta la mia gioia. Perché è arrivato questo messaggio, soprattutto questo invito speciale, perché questi amici carissimi, proprio domani, domenica 22 dicembre, festeggeranno le loro notte d'oro. Allora, quindi vogliamo così augurare a loro ancora tanta, tanta felicità, perché sono casa dei della chiesa italo, detto il baffo. Eccolo qua, mitico baffo, ma sei di un'eleganza, che meraviglia, che figurone, insieme alla sua carissima casa dei della chiesa del Mira, per gli amici Mira. E a loro vogliamo fare veramente tanti, tanti auguri e tanta felicità, perché è un traguardo fantastico, straordinario. E vi ringrazio per questo invito. Mi dispiace, purtroppo che io sono impegnata, non posso essere presente, però lo sono con il cuore, con il pensiero. E sono certa che sarete attorniati dalle persone che ne vogliono bene, da tanta gente, perché loro oltretutto sono titolari di una pizzeria nella zona di Rimini e quindi hanno veramente tanto pubblico, tanta gente che li stima da tanto tempo. E quindi sono certa che sarà una grande festa da ricordare, soprattutto una grande gioia per voi, perché insomma, uniti nella vita, nel lavoro, ma poi li dovete vedere, sono veramente molto affiatati, molto legati, amano il ballo, amano la musica e forse proprio per questo sono così in forma. Comunque vi faccio i complimenti perché siete veramente molto belli, fate una bella figura così elegante, a parte che insomma anche Mira è sempre una signora di buon gusto. Quindi vi ringrazio per l'invito e vi faccio tanti e tanti auguri e tanta felicità per le vostre nostre d'oro. Un augurio quindi anche da tutti i vostri amici, da tutta la gente che vi vuole bene. Poi magari vi ricordiamo anche domani, noi l'abbiamo anticipato perché sono certa che domani sarete tutti un po' impegnati per i grandi festeggiamenti. Quindi auguri di cuore e visto e considerato che siamo anche vicinissimi al Natale, tanti tanti auguri, caro Baffo, cara Mira, anche di un buon Natale a voi, alla vostra famiglia, alla vostra clientela, a tutta la gente che vi vuole bene e abbiamo una bella canzone indicatissima che è Nadelle. E a questo punto vogliamo rinnovare un augurio speciale a una coppia di cari amici che abbiamo ricordato in un modo veramente affettuoso anche ieri, perché in questa giornata, proprio in questa domenica 22 dicembre, festeggiano le loro nozze d'oro, questi amici carissimi. Il mitico Baffo, anagraficamente, lui è casadei della chiesa Italo e la mitica Mira, casadei della chiesa Adelmira. Loro oltretutto da tanto tempo gestiscono questa pizzeria a Bella Riva, li voglio salutare, fare a loro tanti tanti auguri e tanta felicità ancora dei viti insieme. Di salute soprattutto e voglio farvi complimenti perché siete sempre elegantissimi, poi loro li dovete vedere in pista, sono veramente due ballerini invidiabili e poi sono appassionati di musica, della nostra tradizione, hanno un gran sauer fare con la loro gente, con il loro pubblico perché insomma non a caso uno poi per tanto tempo riesce a tenere in piedi viva un locale pubblico, un ambiente, quindi insomma ci vuole sempre un buon modo rivolto al pubblico. Quindi tanti tanti auguri caro baffo e se permetti cara Mira mando un bacio al tuo baffo con tutta la mia simpatia. Auguri, auguri e tanta felicità. Beh in una coseno così ci vorrebbero rulli di tamburi, quelli di trombe. Noi magari Marco se abbiamo i nostri auguri speciali, quelli luminosi, quelli dorati, potremo anche mandarli se li trovi perché così vogliamo veramente fare un augurio speciale. Eccoli, li vediamo di nuovo insieme con questi nostri auguri dal nostro studio. Perfetto, grazie alla regia, grazie al nostro Marco e vogliamo continuare naturalmente parlandovi.